Signori buongiorno e abitagenti movimento sempre. Oggi prima di partire con questa presentazione dove vi presenterò la possibilità di vivere nel centro di Biella e di avere casa e magazzino, casa e punto vendita, casa e studio. La vostra attività la potete unire alla vostra abitazione in un unico contesto dove tutto è pari al nuovo, adesso vi faccio vedere ad un prezzo che crederete non può essere possibile. Ma prima di partire con questo video ricordatevi che i nostri video, le nostre presentazioni, anche questa, arrivano nel mondo ed arrivando nel mondo abbiamo molte persone che ci telefonano sia dall'Italia che dall'estero e cercano nel biellese degli immobili da acquistare. La maggior parte di questi nostri clienti non ha bisogno di attingere a mutui, per cui ha il denaro praticamente per contante, come si diceva una volta. Per cui se avete degli immobili prevalentemente storici, perché la richiesta maggiormente ci viene fatta su immobili storici, telefonateci, noi veniamo, facciamo una stima assieme e se quello che vi stimiamo il vostro immobile o che faremo assieme nel vedere, di valutare equamente il valore della vostra unità immobiliare, vi può andar bene, noi partiamo immediatamente. Signori, biellese, territorio straordinario. Ecco, per chi non abita a Biella, guardate, questo è il biellese, un vero paradiso terrestre. Scusatemi signori, ho un orzaiolo, una congivite, perché o ho guardato dove non dovevo guardare, o non ho guardato là dove avrei dovuto guardare. Ma un grande mago stamattina mi ha detto molto probabilmente perché in questo tempo tu devi sentire, non guardare. Bene. Detto tutto ciò, ecco la proprietà di cui vi parlo oggi, che è una villa nuova. Fuori dalla villa abbiamo il suo capannone, adesso vi faccio vedere. Però prima, prima, prima di arrivare a questa cosa qua, iscrivetevi al nostro canale YouTube, oramai siamo quasi mille persone iscritte nel canale, attivate la campanella così ogni volta che abbiamo un'opportunità di investimento, abitativa, opportunità di reddito, tutto quello che abbiamo in vendita nel nostro patrimonio immobiliare, nel nostro portafoglio di clienti, ne sarete subito immediatamente avvisati. Attivate la campanella, partiamo con la presentazione. Biellese, signori, territorio straordinario. Allora, Biella, via Serralunga, se non sei di Biella, Google la vai a vedere, sei a due passi dal centro. Villa, questa è la villa. Allora, la villa ha una particolarità, come tutto il resto dell'edificio. Tutto è completamente nuovo. Si può dire dalle fondazioni, arrivare al tetto, gli impianti, i serramenti, adesso vi faccio vedere l'interno. L'affaccio della villa è questo, poi vi faccio vedere perché dietro abbiamo una bella vista sulle montagne, però il cortile che vedete, che è apparso adesso, e tutti i bassi fabbricati, che sono più di 400 metri di capannoni, con un'area cortilista di 600 metri, fanno parte della proprietà. E vendiamo questo blocco. Completamente è di proprietà di un'impresa. Quest'impresa si sta ingrandendo. Questo ragazzo, perché è un ragazzo, è veramente un grande lavoratore e necessita di più spazi, quindi ha dovuto acquistare tutta una proprietà molto più grande, perché qui ricovera tutti i suoi mezzi. Ma andiamo a vedere un attimino di cosa stiamo parlando e dei metri quadrati. Tutto qua è pari al nuovo, ve l'ho appena detto, ribadisco. Qui avete un'abitazione di 150 metri quadrati, un piano terreno sotto l'abitazione di 150 metri quadrati, che poi vi farò vedere. Abbiamo un giardino, una rimessa, un'area cortilizia pavimentata in autobloccante con accesso indipendente. Oltre a questo, che fa parte della stessa consistenza, abbiamo 400 metri quadrati di magazzini, un cortile di 600 metri quadrati e anche questo ha un accesso indipendente. Il tutto è collegato, però tutte e due le unità sono completamente indipendenti. Questa è fatta dalla parte più bassa. Se vedete il cursore, il mouse, l'abitativo è questo. Questo è il portone che è d'accesso al cortile di 600 metri quadrati con 400 metri di magazzini e quella che vedete qui sopra è la villa, è la parte dell'abitazione. Qui siamo nella villa, vedete la vista che abbiamo dalla villa. È una bella vista sulle nostre montagne e credetemi, per chi non è di Biella, a piedi da questa unità in 5-10 minuti, 6 in via Italia, il centro pedonale, il cuore di Biella. Come vedete già da questa foto, vedete i serramenti, i tetti, i pavimenti e tutto è stato fatto nuovo. Poi pensate, un impresario, questo ragazzo d'altro anche molto bravo, che finitura ha fatto. Allora entriamo in casa. La scala che vedete, tutta questa casa, quello che vedrete più avanti, ha un richiamo alla centina romana, all'arco a tutto sesto e lui con quest'arco a tutto sesto ha ornato tutta questa proprietà. Vedete che anche le cancellate in questa zona qua sono ad arco a tutto sesto. Questa che vedete è l'accesso, è l'ingresso. Da questo ingresso potete disimpegnare gli uffici che poi andremo a vedere, sono il piano terreno con il suo servizio o l'unità abitativa che è posta sopra. Entrati in casa, allora, due cose da notare subito. La casa è chiaramente un impianto di riscaldamento con caldaia a condensazione e radiatore in ghisa, però c'è un camino a lenta combustione, che è quello che vedete, e ha un impianto di videosorveglianza che prende tutta la parte abitativa, gli uffici e tutta la parte dei magazzini. Il salone della casa è questo. La parte abitativa è composta da una zona giorno, che è quella che vedete completamente aperta, da due grandi camere da letto, da due bagni, da un ripostiglio e un balcone che si affaccia sulle montagne e sul resto della consistenza immobiliare che andiamo a proporre in vendita. Questa, vedete, è la porta d'accesso che dà ingresso all'unità abitativa. Vedete che i pavimenti, gli impianti, i serramenti, è tutto pari al nuovo. Questo è il bagno padronale, dotato di vasca idromassaggio e di doccia, con i suoi sanitari, e questo invece è il bagno di servizio che serve alla zona giorno. Proseguiamo. Zona notte, camera da letto enorme. A Milano, con una camera così, ci fate un attico. Camera da letto enorme, pavimentata in legno, abbiamo una seconda camera, che è quella che vedete in questo scatto, il corridoio che disimpegna la zona notte, chiaramente, scusatemi se mi ripeto, ma tutti i serramenti, vetrate a camera, basso emissivo, antispiforo, avete tutto, e un ripostiglio che serve, che a noi donne un ripostiglio va sempre bene, che serve la parte notte della casa. Ma andiamo a vedere sotto questa villa cosa capita. Capita che abbiamo questo ufficio che vedete, vedete che si riprende il discorso dell'arco tutto sesto in tutta la parte della casa. In tutta questa villa è stato ripreso questo discorso, perché in parte è un restauro di un edificio ottocentesco. Tutto il resto poi è stato rifatto nuovo. Quindi abbiamo un ufficio che è questo. Questo locale, pavimentato, intonacato, isolato, in realtà è la rimessa, ma potrebbe essere un'estensione dell'ufficio, potrebbe essere una zona dove ricevere, potrebbe essere un'altra unità abitativa se volete, perché caldaia, condensazione, come vi dicevo, non solo, abbiamo un recupero d'acqua in una vasca in acciaio inox di mille litri, perché oltre la casa, eccolo qui, in questa zona, vedete qua, avremo una rimessa che è chiusa all'interno della proprietà ed è coperta e ci stanno due macchine, quindi tra sopra e sotto la villa a 300 metri quadrati, più l'area cortilizia, più il suo giardino e la parte che abbiamo visto essere un'altra autorimessa. Ora andiamo a vedere invece la parte dedicata ai capannoni. Qui abbiamo 400 metri quadrati, anche qua tetti e tutto è stato fatto nuovo, non avete eterni da smaltire da nessuna parte. Siamo all'interno di una parte dei capannoni, vedete che anche i solai, i pavimenti, tutto è stato rifatto nuovo. Qui abbiamo un altro deposito aperto, dove quest'impresario ritira e ricovera i propri mezzi. Tutta la parte dedicata agli operai, al magazzino, ha un suo bagno con tanto di doccia. Vedete il cancello in fondo che va a delimitare questa proprietà che è completamente recintata, a dire la verità una doppia recinzione e questa parte è completamente indipendente, collegata alla unità abitativa, ma completamente indipendente. E qua abbiamo altri magazzini. Vedete questo scatto è stato fatto da in casa, vedete i tetti sono completamente stati ricostruiti, rigenerati, non dovete fare assolutamente nulla. La richiesta di questa proprietà è di soli 340.000 euro e per 340.000 euro abbiamo 300 metri quadrati di villa, 400 metri quadrati di capannoni, 600 metri quadrati di cortile, tutto recintato, accessi indipendenti o collegamento, videosorveglianza. La proprietà non ha bisogno veramente di nulla, si tratta solo di entrare e portare i vostri immobili. E tutto questo capita da dove nel biellese che è un territorio straordinario e qui siamo nel centro di Biella oltretutto. Per cui fate, date, buttate un occhio a questo biellese, non come il mio che c'è l'orzaiolo o quello che, perché ho guardato dove non dovevo guardare, o non ho guardato là che invece avrei fatto bene a guardare. Andate a vedere quello che è rosazza che è stata gemellata con Ren le Chateau, la nostra panoramica Zegna, i laghi che circondano il biellese, il ricetto, borgo fortificato dell'anno 1000, comune di Candelo, il santuario mariano di Europa che è qualche cosa di strepitoso. Andate a cercarvi della storia che è presente in questo santuario e prima che fosse santuario cosa c'era lì. Le vie ciclabili in piena montagna che potete trovare nel biellese, il parco naturale della baraggia, altra zona per andare a cavallo, andarci a piedi o andarci in bicicletta, cose che sono meravigliate. Ma vedete il biellese cos'è? Vedete? Poi mi fa piacere perché chi arriva da fuori e vede queste bellezze le apprezza e sempre tutti mi dicono Silvio, pertanto che descrivi bene il biellese non è bello, non riesce a descriverlo per quanto è bello veramente. I laghi montani, questo è il lago della vecchia che ha una storia bellissima, uno dei parchi più belli d'Italia che è il parco della Burcina, siamo nel comune di Pollone, nel biellese trovate laghi per l'estate, torrenti, fiumi, bellissimo e piste da sci per l'inverno. Questo invece è un parco naturale, il parco naturale della Bessa. Passeggiate da fare nella Bessa nelle quattro stagioni sono qualcosa di fantastico. Le vie ferrate che trovi nel biellese, nel biellese, se tu vieni a vivere nel biellese sei in ferie per 365 giorni all'anno e mentre sei nel biellese vai a fare un giro dei castelli del biellese perché vedrai delle opere straordinarie. Capisci che vivere bene è veramente una questione di scelte. Come puoi non scegliere il biellese che è un territorio straordinario dove uno fai un investimento con quattro soldi rispetto a tutta Italia, non ti voglio dire Milano, Torino, Bologna, Firenze, Palermo, Genova, lasciamo perdere quello che è la Liguria, no, ma su tutta Italia hai veramente la possibilità di vivere in un sogno, in una zona che è di una bellezza emozionante e di comprare ad un prezzo, chi arriva da fuori a un certo punto, ma tutti ci dicono ma come fate a vendere questi prezzi, dov'è l'inghippo, come può essere che una perla come il biellese svende i propri immobili a questi prezzi, avete visto la proprietà di oggi, 340 mila euro avete una proprietà, basta darvi le chiavi, avete tutto dall'impianto d'allarme con video sorveglione, dovete dare il bianco, entrate in casa, date il bianco e voi avete fatto tutto, tutto per avere 600 metri di cortile, 400 di capannoni, 300 di villa, più tante altre cose che qui non vi ho detto ma che quando verrete a vedere poi vi spiegano. Ci trovate su tutti i nostri canali come Abitabiella Immobiliare, biellese territorio straordinario, nella nostra community, iscrivetevi a questa community, siamo oramai più di 6.000 persone, ma soprattutto andate sul nostro sito www.abitabiella.it. Alla fine di questa presentazione non possiamo linkare il video perché ancora non l'abbiamo fatto, questa è proprio una new entry di questi giorni di cui vi ho dato una piccola anticipazione con questa presentazione. Se vuoi avere una stima nell'arco delle 24 ore della tua proprietà immobiliare basta che ci mandi la posizione esatta, fotografie e planimetrie, noi in 24 ore ti diamo una valutazione. Perché te la diamo in 24 ore? Perché io da 48 anni vivo in questo mondo. Dal 76 all'86 costruivo case con mio padre, nell'86 apro la mia agenzia immobiliare e tutt'oggi è la mia passione. Per cui capisci che in 46 anni di attività, conoscendo il biellese a menadito, se tu mi dici qual è la tua casa, mi mandi delle foto, mi mandi le planimetrie, io in 24 ore, che è proprio il tempo che devo trovare per dedicarmi a fare quello, ma ti dico quanto vale il tuo immobile. L'altra cosa che stiamo facendo è il Quarkode, per cui dove trovi Abita, basta che punti sul Quarkode e ti mandi sul nostro sito, così puoi vedere i video di ogni proprietà, eccetto questa che dobbiamo ancora farlo. Con un geometra stiamo facendo delle verifiche sul gas Radon, in maniera che gli immobili che noi andiamo a vendere siano liberi, non abbiano problematiche inerenti al gas Radon, che sai un gas in colore, in odore, però è particolarmente nocivo. Altra cosa che stiamo facendo con un'altra equip di ricercatori è dotare le proprietà che vendiamo di ionizzatore, in maniera che l'acqua che voi andate a bere dai vostri rubinetti abbia delle proprietà fantastiche, non posso dire di più. E poi stiamo facendo tante altre cose. Questa signori è la nostra sede, arrivate in macchina, avete un parcheggio all'interno del cortile, qui avete tutti i nostri numeri, mail e tutto quello che vi occorre per fissare un appuntamento, per mandarci dei dati, avere una stima del vostro immobile e chi vi parla da 48 anni sta facendo questo lavoro nella sua vita. C'è scritto anche un libro che è Diario di un uomo libero, come comprare case e vivere di rendita, abbiamo fatto dei corsi, ne faremo degli altri. Investire nell'immobile, signori, è investire eticamente, vuol dire creare del denaro che rimane su quel territorio a beneficio di una collettività. Questo è il settore immobiliare. Signori, e al di là di questo del settore immobiliare, questo è il biellese che è un territorio straordinario. Iscriviti sui nostri canali YouTube, attiva la campanella così sarai sempre avvisato. E beh, sai che vivere bene è una questione di scelte e se tu scegli il biellese non potrai sbagliare nelle tue scelte. Se questa presentazione ti è piaciuta, spolliciona all'insù e iscriviti al nostro canale. Chiudendo, ricordo tutti, specialmente ai biellesi, da quando abbiamo iniziato a fare video dal 2018, abbiamo video che inerenti al lavoro hanno più di 150.000 visualizzazioni ma veramente siamo arrivati in tutto il mondo. Per cui se avete un immobile storico, fermo, qualunque immobile, ma se avete un immobile storico, una dimora, in questo momento non riusciamo più a soddisfare la nostra clientela perché abbiamo clienti con soldi in mano pronti a fare l'atto per comprare una dimora storica. Per cui chiamaci, ti spiegheremo bene come lavoriamo, facciamo una stima del tuo bene e partiamo subito con la vendita. Signori, alla prossima presentazione, chissà che mi sia guarito l'occhio, che sia andato a guardare dove invece devo guardare. Per biellese territorio straordinario, noi vi abita sempre in movimento, anche con l'occhio un po' così.